ragazzi un saluto a tutti da mario inter e mi arriva un messaggio del tipo un mio iscritto mi fa un messaggio mi dice mario ho preparato un video per te spero ti piaccia e dico io vado a vedere sto video e io non mando le mie persone a vedere questo video sul suo canale e invitarle iscrivere guardate ragazzi ragazzi vi invito tutti quanti andare a guardare questo video vi invito tutti quanti andare da lui guarda si chiama bruschi milo de top ha fatto un video su di me state vedendo ragazzi vi invito visto che siete veramente persone per bene non si fa solo persona vi invito tutti quanti andare su questo sito bruschi de milo ha fatto un video e il juventino però già che ha fatto una cosa del genere già significa che accetta sfotto accetta tutto vi invito a iscrivervi aiutiamo a crescere ragazzi perché ha fatto qualcosa di straordinario e dei nostri anche se juventino però io ho tanti juventini sul mio canale quindi vi invito tutti quanti andare sul suo profilo bruschi milo ve lo faccio rivedere ragazzi bruschi milo guardate vedi c'è iscrivetevi al canale di mario inter come cazzo è scritto aspetta ha scritto iscrivetevi sul canale di mario inter state vedendo giustamente ha visto quale scene lì che è successo è una persona per bene ragazzi jack spider vittore vip tutti quanti andate vincenzo 2001 tutti quanti indirizzi ventini andate su andate innanzitutto a vedere questo video e iscrivetevi ragazzi fatelo per me un bacione vi voglio bene